Si accascia a terra per un malore e muore dinanzi agli occhi attoniti dei colleghi e dei passanti. La vittima è un muratore che ha perso la vita nel primo pomeriggio in un parcheggio in località Torretta, San Marco di Castellabate. L'uomo, 56enne di Casalnuovo di Napoli, è stato stroncato da un infarto. La vittima, operaio, era in zona alla ricerca di qualche lavoro insieme a due colleghi, sempre di Casalnuovo, quando all'improvviso si è sentito male. Inutili i soccorsi dei sanitari del South di Castellabate perché l'operaio è morto sul colpo, stroncato da un infarto. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Castellabate e gli agenti della polizia locale. La vittima si è sentita male in auto, un Alfa Romeo 147 e i suoi colleghi si sono subito accorti della gravità del fatto. Così si sono fermati per chiedere aiuto e avvisare i soccorsi. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare.